Il sistema di videosorveglianza a Teramo, che delimita il centro storico, continua a far discutere. Dopo le centinaia di ricorsi al prefetto, le oltre 3.000 multe annullate dal comune, a molti teramani è toccato ricorrere al giudice di pace, mentre i commercianti infuriati chiedono la rescissione del contratto senza se e senza ma, con la ditta che gestisce i varchi. Ditta che sarà domani a Teramo per il vertice richiesto dal comune. Abbiamo chiesto la sospensione del servizio perché non funziona, quindi ci sembra opportuno che l'amministrazione prenda questa decisione e poi loro decideranno quello che devono fare con chi gestisce il varco. È successo che nel periodo di agosto-settembre a più di 8 commercianti di Corso Cerulli sono pervenute delle sanzioni con degli orari completamente sbagliati, addirittura una multa alle 6 di mattina che il sole sorgeva alle 6.40, quindi c'è qualcosa che non ha funzionato, l'amministrazione in questi giorni ha riconosciuto, il comandante dei vigili ha chiesto delle lucidazioni alla azienda che gestisce i varchi e però ancora non rispondono, tant'è vero che il 5 novembre c'era un incontro amministrazione e gestore e loro non si sono presentati, quindi palesemente è riconosciuto l'errore che c'è. Però il comune non vuole sospendere le multe? Il comune non vuole sospendere, noi l'abbiamo chiesto e lo chiederemo ancora anche a alta voce, di solito si fa così, nel senso che è buon senso dare un buon segnale anche a dare alla città quando una cosa non funziona bene va prima rivista, messa a punto e poi riparte il servizio. Noi comunque i commercianti e le associazioni di categoria non è che sono contro i varchi, siamo contro i varchi quando non funzionano bene.